Oggi con i mezzi a disposizione degli specialisti in ambito cardiovascolare, già con un esame clinico, con una visita specialistica accurata e fornita praticamente dotata di una diagnostica ecocardiografica o ecocolordoppler, riusciamo a essere estremamente precisi sulla estensione della patologia, sulla gravità della patologia e indirizzare subito il paziente alla cura specifica. A Ischia noi abbiamo un servizio che copre bene il territorio per quanto riguarda la fase preventiva.